Ciao e benvenuto all'interno di un nuovo video qui su questo canale. Questa puntata, questo video di oggi, vorrei dedicarlo a uno degli argomenti che probabilmente affligge più in assoluto qualunque persona su questa terra, qualunque imprenditore su questa terra. Ossia quella profonda difficoltà che tante volte riscontriamo tra il sapere certe cose e il farle. O se meglio preferisci, questa differenza che c'è tra la teoria e la pratica. Quindi come faccio a prendere le informazioni, le competenze e il sapere che fino ad oggi ho sviluppato e metterlo in pratica per ottenere risultati. Ecco, in questo video parliamo di questo e ti spiego esattamente qual è in questo momento il problema che ti impedisce di compiere quelle azioni che realmente ti servono per ottenere risultati. Quelle azioni che probabilmente in questo momento conosci già. Prima di iniziare però, innanzitutto un paio di comunicazioni di servizio. Prima di tutto, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella delle notifiche. Mi raccomando, è molto importante per non perderti tutti quelli che saranno i prossimi video su questo canale. Come ormai avrai visto, se buzzichi da un po' di tempo a questa parte di questo canale, ogni settimana pubblichiamo dei contenuti e lo facciamo in base a quelle che di fatto sono le vostre esigenze. Quindi un'altra cosa molto importante che ti invito a fare è lasciare un like per farmi sapere se questo video ti piace, soprattutto per farmi sapere se questi sono gli argomenti che vuoi approfondire. E poi utilizza il box dei commenti per farmi tutte le domande del caso, ma soprattutto per farmi conoscere quelli che sono gli argomenti che vorresti approfondire. Qual è l'argomento che ti interessa maggiormente all'interno di questo mega universo che si chiama riprogrammazione mentale, ovviamente applicata al business. Poi, se non mi conosci, beh, mi presento. Il mio nome è Roberto Maria Vadalà e sono la massima autorità in Italia in tema di riprogrammazione mentale. Non a parole, ma con i fatti. Sono un consulente certificato della società di Bob Prottor. Sono l'unico consulente certificato in Italia che fa parte dell'Inner Circle, del Circle of Excellence e che ha ricevuto il riconoscimento Pinsilver. Sono uno studente di successo di Bob Prottor. Sono l'unico studente in Italia che ha rilasciato un'intervista presso i canali della PGI. Intervista che puoi vedere in qualunque momento all'interno del canale ufficiale di Bob Prottor. E durante quell'intervista ho raccontato quelle che sono state le tappe salienti del mio percorso che mi ha portato da 0 a 100.000 euro netti al mese. E ovviamente ho fatto la VMR Consulting che oggi è un'azienda leader in Italia per quanto riguarda la riprogrammazione mentale applicata al business. Pensa che soltanto nell'ultimo anno gli studenti che hanno fatto accesso al nostro percorso hanno avuto in media degli incrementi nei propri guadagni mensili nell'ordine del 927%. Se non ci credi vai a dare un'occhiata alla playlist che trovi su questo canale si chiama Testimonianze Studenti. Troverai oltre 40 ore di video testimonianze di studenti di tutti i tipi, di tutti i background, che facevano tutti i business di questo mondo. Ecco loro sono riusciti a fare esattamente quello che ti spiego oggi. A prendere delle informazioni, a prendere il loro sapere e a metterlo in pratica per compiere quelle azioni che erano evidentemente necessarie per raggiungere un certo risultato economico. Quindi il video di oggi è molto importante e ti invito a prestare attenzione fino alla fine. Ed è un video che ovviamente va bene sia se in questo momento sei un imprenditore diciamo da solo, quindi magari hai appena iniziato il tuo business o lo stai iniziando. Ma questo è un video e solo una serie di informazioni molto molto utili anche se in questo momento hai una realtà magari non troppo strutturata, magari non so hai 5, una decina, una ventina di collaboratori. E anche tu ti ritrovi ogni giorno a farti questa domanda. Non soltanto come faccio in prima persona a compiere quelle azioni che veramente mi servono per ottenere un risultato, ma come faccio a garantire a tutti i miei collaboratori la stessa cosa. Perché se sei un imprenditore, beh sicuramente ti sarai reso conto del fatto che per ottenere certi risultati ovviamente non basta semplicemente il tuo lavoro. Hai bisogno che tutto il tuo team, che tutti i tuoi collaboratori, dipendenti, tutte le persone con le quali hai a che fare su base giornaliera nella tua azienda, siano ovviamente tutte quante concentrate sul porre in essere quelle azioni che servono per ottenere un certo risultato. Quindi il primo messaggio che voglio mandare a tutti gli imprenditori là fuori è quello di essere consapevoli della situazione che in questo momento stai vivendo, soprattutto se non stai ottenendo certi risultati che desideri. In questo momento la tua difficoltà del prendere la teoria e metterla in pratica per ottenere risultati è la stessa identica difficoltà che anche i tuoi collaboratori stanno vivendo in questo momento. I tuoi esperti di marketing, i tuoi copywriter, i tuoi venditori, qualunque persona che lavora nella tua azienda è molto molto probabile che stia riscontrando le tue stesse difficoltà. Quindi la prima cosa che ti consiglio di fare, oltre a fare un bel respiro, è di essere consapevole che stanno vivendo queste difficoltà e tu come imprenditore che sei responsabile della baracca non soltanto devi rendertene conto ma devi porre in essere delle azioni che quindi non soltanto permetteranno a te di sincronizzare ciò che sai e ciò che fai ma lo permetteranno anche a tutti i collaboratori che appunto fanno parte della tua azienda. E questo è stato un punto fondamentale che mi ha permesso di far crescere ulteriormente la mia azienda. Quando alla fine del 2021 mi accingevo a compiere quelli che di fatto sarebbero poi stati gli ultimi step per raggiungere l'obiettivo dei 100 milionetti al mese mi sono reso conto che effettivamente mi stavo avvicinando sempre di più perché non soltanto io come persona stava crescendo e migliorando ma anche i collaboratori che c'erano in quel momento stavano facendo la stessa cosa. La loro crescita, il loro miglioramento personale, il fatto che loro per primi stavano perseguendo i loro obiettivi mi ha permesso di arrivare più velocemente a questo risultato. Ed è per questo motivo che da quel momento in poi ho iniziato a far applicare giornalmente a tutto il team della VMR Consulting la riprogrammazione mentale. Perché la riprogrammazione mentale devi sapere non è qualcosa che riguarda soltanto il singolo individuo ma è ovviamente una disciplina che si può applicare anche a un gruppo di persone. Quindi anche all'interno della tua azienda, anche se in questo momento siete 3-4 persone anzi a maggior ragione puoi applicare la riprogrammazione mentale per allineare non soltanto gli obiettivi di tutti a quello che di fatto è il tuo obiettivo visto che tu sei l'imprenditore ma soprattutto per assicurarti che ognuno di loro riesca a trovare una sincronia tra quello che sanno e quello che fanno. E ovviamente quello che fanno devono necessariamente essere quelle azioni che ti portano a raggiungere il tuo obiettivo. Quindi come si fa a garantire questa unione di intenti? Ma soprattutto come si fa a garantire che tutta la tua azienda nessuna persona esclusa sia coerente con l'obiettivo che in questo momento vuoi perseguire? Beh, il primo passaggio fondamentale è ovviamente quello di conoscere le regole del gioco cioè hai bisogno che ognuno dei membri della tua azienda conosca esattamente come funzioniamo e non mi sto riferendo al tuo corpo umano al fatto che respiriamo, che c'è del sangue, che dobbiamo mangiare tutte quelle altre cose che riguardano appunto lo stato fisico mi sto riferendo a come funziona la nostra mente perché la tua mente, la mia mente, la mente di tutti i tuoi collaboratori funziona esattamente allo stesso modo e nel momento in cui una persona non è consapevole di come funziona la propria mente e non è consapevole del fatto che ogni pensiero che intrattiene si traduce in un'azione, positiva o negativa che sia beh, capisci bene che non siamo in grado di controllare la nostra vita non siamo in grado di cambiare i nostri risultati per cui se oggi in questo momento ti stai incaponendo e arrabbiando verso il collaboratore di turno che non fa le azioni come gli hai chiesto che buca le scadenze che non riesce a portarti i risultati che magari vorresti da questa persona sappi che in parte è anche responsabile tua perché non hai messo in condizione questa persona di capire chi realmente è e soprattutto come funziona come funziona la nostra mente e come facciamo attraverso un pensiero a tradurre questa idea in delle azioni concrete che ci fanno ottenere un certo risultato quindi il primo passaggio fondamentale è quello di permettere a tutto il team di essere consapevole la consapevolezza è il primo punto di partenza e sai qual è il contrario della consapevolezza? l'ignoranza ed è l'ignoranza che in questo momento ti porta ad avere a te e ai membri del tuo team dubbi dubbi su cosa fare dubbi se si è in grado di raggiungere un certo risultato dubbi se la strategia che stiamo perseguendo magari è quella giusta dubbi se ci sia qualcos'altro che dovremmo fare e che in questo momento non riusciamo a capire ecco con tutti questi dubbi nella tua mente e nella mente del tuo team non andrete da nessuna parte pensaci un attimo come possiamo mai ottenere un risultato che non abbiamo mai raggiunto nella nostra vita se l'unico forma di pensiero che intratteniamo sono i dubbi o addirittura le preoccupazioni preoccupazioni se quello che stiamo facendo è giusto o preoccupazioni se non riusciamo a ottenere un certo risultato o preoccupazioni di tutte le conseguenze negative che potrebbero arrivare nel futuro ecco quando tu, il tuo team ma basta in realtà anche una sola persona all'interno del team fa questo errore perché non è consapevole a cascata questo si riflette sulle azioni di tutto il gruppo di lavoro sulle tue e ovviamente la fine sui tuoi risultati quante volte ti è successo di renderti conto che all'interno di un team c'era una persona negativa c'era una persona che all'ennesima riunione voi quando provavate a portare avanti delle nuove idee dei nuovi progetti, delle nuove opportunità tendeva sempre a ridurle di significato tendeva sempre a vedere la parte negativa di ogni cosa ecco questo ti fa capire quanto sia importante che ogni singolo membro della tua azienda sia consapevole di come funziona la mente perché ne basta uno per cambiare letteralmente l'energia all'interno della stanza fisico o digitale che sia basta una sola persona negativa per rendere l'atmosfera di tutto il gruppo di lavoro un'atmosfera negativa e sai qual è la differenza? e questo è un grande momento wow che ho imparato durante il mio percorso che tante volte per ottenere un risultato non siamo chiamati a fare cose diverse dal solito ascolta bene quello che ti ho detto tante volte per raggiungere un risultato non dobbiamo fare cose diverse da quelle che siamo soli di fare quello che cambia è il modo in cui facciamo queste cose per cui prova ad immaginarti questa scena all'interno del tuo team c'è un gruppo di persone che ovviamente ha a che fare con la vendita sono quelle persone che hanno la responsabilità ogni singolo giorno di portare risultati economici nella tua azienda sono colori quali devono produrre le vendite al tuo posto ecco secondo te la loro attività cioè il contattare il libro di turno il prospect di turno e convincerlo a comprare qualcosa cambierà nel corso del tempo? ovviamente no la vendita si fa sempre in un certo modo e sono sicuro che tutti i tuoi venditori nessuno escluso sono pienamente consapevoli di questo aspetto sanno esattamente come si fa per vendere perché lo hanno già fatto in passato il problema è che non riescono a prendere la loro performance positiva a mantenerla costante nel corso del tempo e a migliorarla quindi quello che devono fare non è fare cose diverse ciò che devono cambiare è il modo in cui fanno questa stessa azione perché probabilmente su 10 chiamate se va bene fanno una vendita le altre 9 no quindi l'azione è sempre la stessa ma l'energia che ci metti per fare questa azione cambia notevolmente e questo ci porta al secondo punto perché nel momento in cui rendi il tuo team consapevole di questi aspetti il passaggio successivo è iniziare a fargli fare un percorso per fare in modo che quelle cose che magari oggi riescono in modo sporadico a fare in modo positivo diventino uno standard diventino un'abitudine ecco questo ci porta al nostro secondo momento wow quando è che veramente riusciamo a cambiare? quando è che riusciamo veramente a sovrascrivere le abitudini che ci portiamo dietro da una vita intera quando abbiamo un obiettivo quando abbiamo un desiderio talmente ardente che ci smuove che ci fa sovrascrivere tutte le abitudini che magari sono decenni che ci portiamo dietro ecco ti faccio questa domanda il tuo team ha un obiettivo? ti sei mai preoccupato all'interno del tuo team di verificare se ogni membro della tua azienda abbia un obiettivo? e non mi sto riferendo al classico obiettivo aziendale aumentiamo il fattore del 5% e non mi sto neanche riferendo alla classica cavolata perché è un limite questo di definire gli obiettivi aziendali in base a un business plan facciamo le proiezioni il prossimo anno saremo qui, lì e là ogni business plan e mi rendo conto che in questo momento qualcuno potrà cadere dalla sedia ma è la realtà dei fatti ogni business plan non è nient'altro che uno strumento per permettere ai tuoi condizionamenti alle tue paure, ai tuoi blocchi di prendere il sopravvento di dirti quello che bisogna fare quindi già a livello aziendale 9 volte su 10 le aziende sbagliano a scegliere i loro obiettivi scelgono cose che o sono a loro portata o che hanno già fatto o che pensano di poter fare e quindi sai che cosa succede? che ovviamente non c'è crescita che ovviamente nessuno dei membri del tuo team è veramente stimolato motivato a cercare dentro di sé il suo meglio perché o sono cose che hanno già fatto o comunque non c'è alcun tipo di stimolo ma a questo aggiunge un altro aspetto tu stai chiedendo a tutto il tuo team di sacrificare la loro intera vita perché di fatto di questo si tratta di lavorare praticamente tutto il giorno per te in vista di un obiettivo che probabilmente interessa soltanto a te per cui ti rifaccio la domanda ti sei veramente preoccupato di capire quali sono gli obiettivi personali di ogni membro del tuo team? ti sei mai veramente preoccupato di capire di verificare se ogni membro del tuo team è consapevole che attraverso l'attività che svolge nella tua azienda può raggiungere qualunque desiderio lui voglia o lei voglia è molto probabile che la risposta sia no ecco questo è il secondo punto importante devi creare un ambiente di lavoro nel quale ogni singola persona che partecipa abbia la certezza matematica abbia il credo incrollabile che dentro questo ambiente può scegliere un obiettivo un obiettivo anche personale che non c'entra nulla col fattore dell'azienda e grazie all'azienda può crescere e migliorarsi per raggiungerlo quando riesci a garantire questo tipo di condizione chiunque darà il 1000% per te perché nessuno vorrà lasciare questo ambiente dove c'è soltanto crescita abbondanza opportunità felicità serenità ecco questo è il secondo momento wow e tu come imprenditore hai questa responsabilità quello di garantire questo tipo di ambiente e di fornire tutti i principi e i valori necessari per permettere al tuo team di applicare giornalmente questi principi il che ci porta ovviamente alla terza fase perché fino a quando si tratta di scegliere un obiettivo chi bene e chi male più o meno tutti quanti ci riescono il problema è ok ma adesso come faccio a fare quelle azioni necessarie per raggiungere questo obiettivo ecco se all'inizio ti ho detto che era un tema di consapevolezza in questa terza fase c'è un'altra parola che vorrei imprimersi nella tua mente coerenza nessuno di noi può raggiungere un risultato se non è coerente con questo stesso risultato che qua significa questa cosa pensaci un attimo qualunque oggetto fisico che in questo momento hai intorno a te dal dispositivo dal quale stai guardando questo video a una qualunque altra cosa che magari ha portato in mano è stata creata due volte la prima volta nella mente del suo creatore e la seconda volta attraverso le azioni che l'hanno manifestata fisicamente un pittore prima di dipingere un quadro pensa al quadro e poi dopo lo produce tu stesso che in questo momento stai guardando questo video che cosa hai fatto? probabilmente eri sull'home page di youtube hai visto che tra i tanti video c'era il mio faccione e che cosa hai fatto? hai pensato hai pensato se fosse il caso di dedicare del tempo per ascoltare questo video o magari andare da qualche altra parte e dopo questo pensiero hai fatto un'azione hai cliccato e ora sei qui che mi stai ascoltando ecco questo ti fa capire che ogni cosa va creata due volte la prima volta nel nostro mondo interiore e la seconda volta nel nostro mondo esteriore fisicamente per cui così come un pittore che vuole dipingere un quadro non avrà mai alcun tipo di dubbio sulle sue capacità e su come utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per dipingere allo stesso identico modo tu e il tuo team non potete avere alcun tipo di dubbio su quello che è l'obiettivo che vuole perseguire quindi essere coerenti con il nostro obiettivo significa essere allineati significa essere sulla stessa frequenza significa che nel momento in cui scegli un obiettivo e decidi in maniera irrevocabile che questo è ciò che otterrai nella tua vita e la stessa cosa vale ovviamente per il tuo team dentro di te nel tuo mondo interiore i pensieri e le emozioni sono coerenti con questo obiettivo non ci sono dubbi sul fatto che ce la farai non ci sono dubbi sulle due capacità e non ci sono dubbi su tutti quelli che sono gli argomenti necessari per raggiungere questo risultato ti faccio un esempio pratico quando ho deciso di perseguire il mio obiettivo dei 100.000 euro netti al mese nel mio mondo interiore ho iniziato ad apportare dei cambiamenti perché dovevo essere una persona coerente con questo obiettivo quindi dovevo vedermi in grado prima di tutto dovevo vedermi all'altezza di questa cifra ma non soltanto dovevo avere un rapporto adeguato con il denaro perché per fare 100.000 euro netti al mese non puoi che avere un rapporto coerente con il denaro non puoi pensare che i soldi siano scarsi se no non li farai mai non puoi pensare che i soldi siano qualcosa di molto difficile da ottenere perché se no non li otterrai mai ti aggiungo deve cambiare il tuo modo di interpretare il business deve cambiare il modo in cui interpreti il ruolo dell'imprenditore deve cambiare quella che è il significato che attribuisce la parola successo o fallimento o tempo ecco ognuno di questi argomenti è un differente paradigma sul cui lavorare per cui quando ti dico che è fondamentale che ci sia coerenza tra te il tuo team e l'obiettivo intendo esattamente questo che tu e il tuo team dovete avere pensieri ed emozioni che sono coerenti con questo obiettivo e quindi come si fa a colmare questo gap beh lo si fa attraverso un processo di riprogrammazione mentale ed è per questo motivo che è nata ed esiste la VMR Consulting per aiutare il maggior numero di persone a colmare questo gap per aiutare il maggior numero di persone ad essere coerenti con l'obiettivo che dicono di voler perseguire ma che poi però azioni alla mano dimostrano di non sapere come fare per raggiungere la VMR Consulting è nata per questo intento e il percorso Master 10k è esattamente la soluzione per colmare questo gap ed è un percorso che puoi usare tu singolarmente come imprenditore ma che puoi anche usare tutto il tuo team nessuno escluso è esattamente lo stesso percorso che la VMR Consulting tutta nessuno escluso segue su base giornaliera ed è grazie a questo percorso se i miei risultati sono cresciuti in maniera così esponenziale nello stesso anno in cui ho guadagnato i miei primi 100.000 euro netti al mese ho fatto anche il primo e poi a distanza di tre mesi secondo milione di euro ed è questo il motivo per il quale continua a crescere ogni giorno ed è questo il motivo per il quale ogni singolo membro della VMR Consulting continua a crescere ogni singolo giorno in termini economici e in termini personali quindi che cos'è Master 10k? è il primo percorso unico nel suo genere un percorso completo pratico pragmatico della durata di 12 mesi che ti segue passo dopo passo per diventare una persona coerente con il tuo obiettivo è un percorso che penso appositamente per coloro i quali reperseguono obiettivi di natura economica quindi tu che in questo momento sei un imprenditore hai bisogno hai necessità di assicurarti che ogni singolo membro del tuo team segua questo percorso e sia coerente con questo obiettivo ti lascio un link sulla descrizione all'interno della descrizione di questo video che ti riporterà la pagina in dettaglio di Master 10k dove poter raccogliere tutte le informazioni del caso io però sono sicuro che anche dopo aver letto questa pagina in te ci sarà un dubbio ma siamo sicuri che funziona per me? Roberto io ho visto tutte le testimonianze ho visto tutte e 40 le ore di testimonianze ho preso nota di tutti i miglioramenti in termini economici che i tuoi studenti hanno avuto ho capito la tua storia ho capito la storia dei tuoi collaboratori ma come faccio ad essere sicuro che funzionerà per me? è la domanda che io stesso mi sono fatto qualche anno fa quando seguivo Bob Prottor ecco con la consapevolezza che oggi ti posso dire che funziona assolutamente anche per te per un motivo ben preciso perché la mia mente e la tua mente funzionano allo stesso modo ma siccome sono sicuro che questa risposta non ti è bastata e sono sicuro che hai bisogno di raccogliere maggiori informazioni e di capire veramente perché questo percorso funzionerà anche per te il consiglio migliore che ti posso dare è quello di prenotare una consulenza gratuita e senza impegno con uno dei membri della VMR Consulting c'è un link all'interno sempre della descrizione che ti porta ad una chat su Whatsapp cliccaci e prendi appuntamento in quell'occasione avremo modo di parlarne viso a viso avrei modo di parlare con uno dei miei collaboratori che ti racconterà l'esperienza che lui stesso sta vivendo e che gli studenti che sta seguendo stanno vivendo lo stesso modo quindi non perdere altro tempo clicca sul link prenota la tua consulenza e cerca di capire se questa è la soluzione giusta per te io sono sicuro che la soluzione è giusta per te detto questo mi raccomando iscriviti al canale attiva la campanella delle notifiche lascia un like e fammi sapere se questo video gli è piaciuto perché mi permette di capire quali sono gli argomenti su cui fare ulteriori approfondimenti ma soprattutto usa il box dei commenti per farmi sapere qual è il prossimo contenuto che vuoi vedere su questo canale detto questo fai il tuo gioco e come sempre al tuo successo ciao ciao